Questa statua è il fratello di un certo Mazzoli, anche lui Mazzoli, che consigliò a Mazzoli di venire a lavorare in un crocetto sul lago di Garda. Il segreto del Sea Life, l'implementazione Merlin, che spero venga raddoppiata anche con Madame Tussaud, è che gli acquari sono ricurvi, ultracenografati, quindi quando si va al centro dell'acquario ci si immerge con la testa direttamente nell'acqua. Ah, e poi ci sono gli indovinelli, ci sono, non lo sapevo, ci sono addirittura, molto scenografato, questa salata che richiama Fuga d'Atlantide, abbiamo le scenografie dei paesaggi che quindi a colpa d'occhio ci mimano, quello che succede da sotto l'acqua, fuori dall'acqua. Ovviamente andiamo a vedere, questa è una propria delle prime stanze, perché visto solo adesso, solo queste per adesso, ci sono i pirani all'inizio, c'è una barca, si entra dentro una barca, quindi molto scenografato il Sea de Gardaland, richiama quindi Gardaland, anche se c'è un passaggio esterno dal parcheggio, non solo, c'è una strada, quindi qua corrono, quindi io ho paura, beh, speriamo che possa essere addoppiato da una roba tipo Madame Tussaud, in modo da ampliare l'offerta della sorta, restando comunque a tema di quello che c'è da Merlin. E qui torniamo, sono un lago di carta, e qui torniamo, adesso è molto la pezza.